Nuovo triste primato per Taranto, il capoluogo ionico e vertici della classifica dei lavoratori colpiti da tumore per cause professionali. Taranto maglia nera per il numero assoluto di malattie cancerogene imputabili all'attività lavorativa. A seguire Torino, Napoli, Milano, Genova e Venezia. E quanto emerge dai dati dell'osservatorio statistico dei consulenti del lavoro, che in occasione della giornata mondiale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del 28 aprile, ha analizzato gli open data INAIL in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali. Nel Tarantino il 70% dei tumori denunciati è dovuto alle fibre di amianto e correlato al settore metalmeccanico. Nel bienio 2017-2018 il maggior numero di infortuni mortali di lavoratori si registra nella provincia di Crotone, seguono le province di Isernia e Campobasso. Lo scorso anno sono stati circa 641 mila i lavoratori che hanno subito un incidente sul lavoro ed il numero di quelli con esito mortale è aumentato del 10,1%. Secondo l'analisi, l'84,6% degli incidenti sono avvenuti durante l'attività lavorativa, mentre il 15,4% nel tragitto casa-lavoro, facendo registrare un aumento delle denunce di infortunio dello 0,9% rispetto al 2017. Ma l'aumento più significativo è quello che riguarda gli incidenti mortali, soprattutto quando si utilizzano mezzi di trasporto per lavorare.